Buongiorno a tutti, oggi vorrei parlare di implantologia a carico immediato, ma nel pratico, cioè analizzando i vantaggi pratici per il paziente con l'implantologia a carico immediato rispetto all'implantologia convenzionale. Abbiamo portato due casi in cui abbiamo riabilitato in un caso l'interarcata, nel secondo caso la zona estetica, cioè la zona anteriore della bocca. Nell'implantologia convenzionale questi due pazienti avrebbero tolto i denti, avrebbero messo gli impianti, ma avrebbero avuto un provvisorio mobile, una dentiera o un facsimile. Con l'implantologia a carico immediato i pazienti nel giro di un'ora o due ore sono invece andati a casa con i denti fissi. L'implantologia a carico immediato si ottiene con determinate tecniche, determinate frese e determinate geometrie chirurgiche per ottenere una forte stabilità degli impianti e poter avvitare immediatamente un provvisorio fisso. All'implantologia All'implantologia Grazie a tutti.